Buonasera a tutti, benvenuti, sono Matteo Paganini e benvenuti a questo appuntamento con questa chiacchierata, questo ragionamento ad alta voce sul tema Brexit. Abbiamo già avuto modo di parlare circa tre settimane fa di questo argomento, un argomento che poteva sembrare precoce ma come avrete avuto modo di notare nel corso di queste settimane è stato un market mover soprattutto sulla sterlina, una sterlina che si sta muovendo in maniera molto volatile, molto confusa e rispettando poco dei parametri tecnici e questa volatilità è possibile che ci accompagni da qui fino al 23 giugno. Ora andiamo a vedere quattro ragionamenti insieme, prima del 23 giugno il 21 andremo a trovarci sempre alle ore 18 per fare il punto della situazione e prepararci a quello che succederà due giorni dopo, il 23 è un giovedì quando appunto l'Inghilterra sarà chiamata ad esprimere questo voto a proposito di questo referendum. Andiamo velocemente a vedere e a ripercorrere che cos'è la Brexit, è la possibile uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, è stata proposta dal partito conservatore guidato da David Cameron, perché è stata proposta? Perché non si vuole che la Gran Bretagna debba sottostare tutte le imposizioni che arrivano da Bruxelles ed è comprensibile, noi siamo più controllati rispetto alla Gran Bretagna, adesso vediamo già che privilegi tra virgolette loro hanno rispetto a noi e non so se voi ve ne siete accorti, io me ne sono accorto sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista da analista che siamo sottoposti a politiche di austerity particolarmente aspre e la Gran Bretagna da buon indipendentista diciamo così, vuole tentare di uscire dall'Unione Europea per non dover sottostare a tutte queste imposizioni che arrivano dall'Unione Europea, nello specifico da Bruxelles e si voterà come detto il 23 giugno del 2016, un giovedì. A mercati aperti dunque, sapete che il valutario lavora 24 ore su 24, dalla domenica sera al venerdì, quindi saremo in pieno mercato quando inizieranno a circolare i primi exit poll effettivi su questo referendum. Opt-out UK, che letto così sembra difficile come vi dicevo l'altra volta, ma tendenzialmente è la rappresentazione di alcuni accordi che sono stati negoziati tra alcuni paesi membri e l'Unione Europea e alcuni di questi paesi sono riusciti ad ottenere un'esenzione dall'obbligo di applicare talune disposizioni che sono contenute nei trattati europei o nella legislazione comunitaria. Andiamo via molto veloce, giusto per farvi capire, Schengen lo sapete, la libera circolazione degli individui che è stata firmata negli anni 90, non è applicata alla UK, UK mantiene i controlli alle proprie frontiere, l'Unione Economica e Monetaria, sancita dal trattato di Maastricht, chiaramente ha visto la Gran Bretagna mantenere la propria moneta, quindi non ha l'Euro, molti dicono che sarà un referendum per uscire dall'Euro, ma confido che sia un errore, un refuso proprio di scrittura o di parlantina, perché non hanno l'Euro, appartengono all'Unione Europea ma hanno la sterlina. Per quanto riguarda la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quindi il trattato di Lisbona 2009, qui si parla più di diritto che di economia, però tendenzialmente il Regno Unito ha ottenere di allegare a questo trattato di Lisbona una sorta di protocollo che chiarifica come si va ad applicare la carta. Nel protocollo si dichiara, come vedete scritto qui, che la carta non va ad estendere la competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea o di qualsiasi altro organo giurisdizionale del Regno Unito, a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa del Regno Unito non siano conforme ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che si riafferma, quindi hanno autonomia anche su questi temi, così come per lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ma soprattutto per il fiscal compact, i patti di bilancio europeo in vigore da quest'anno, UK non ha siglato il patto. Oltre a questo, che era già stato ottenuto da parte della Gran Bretagna e da parte di altri paesi, la Polonia, la Danimarca, dipende dalla situazione, da quello di cui stiamo parlando, ma qua ci stiamo concentrando più che altro sulla Gran Bretagna, dicevo oltre a questo, Cameron è andato a trattare con l'Unione Europea prima di indire questo referendum. Dopo aver trattato con l'Unione Europea è arrivato a raggiungere lo scorso 19 febbraio, se non erro, forse il 20, comunque il 19 o il 20, questi accordi. Vedete scritto qua, Ever Closer Union, ossia è una clausula nei trattati europei che vuole l'Unione Europea, che dice che l'Unione Europea deve essere un'unione sempre più chiusa, sempre più unione. Invece in UK hanno deciso e sono riusciti ad ottenere, ad evitare delle limitazioni e questo è un tema che va a far pari a patta con argomenti relativi alla sovranità. Non avranno l'euro, non apparterranno mai all'esercito europeo, hanno detto di no ai confini aperti, hanno detto di no ai salvataggi monetari degli altri stati che si dovessero trovare in difficoltà, come la Grecia per esempio, e tutti questi no che sono stati detti e che sono riusciti ad ottenere vanno in qualche modo a garantire un principio di sovranità per l'Unione, per la Gran Bretagna. Hanno anche lavorato sul tema dell'immigrazione, sono riusciti ad ottenere un freno di emergenza per l'accesso al welfare, cosa vuol dire? Che tanti stranieri, anche noi italiani, andavamo e andiamo tuttora in Gran Bretagna per avere l'accesso ai loro sistemi assistenziali per quanto riguarda la salute eccetera. Per gli immigrati sono riusciti ad avere 4 anni di tempo senza permettere l'accesso al welfare statale, quindi chi va a lavorare a Londra e trova lavoro per 4 anni non avrà diritto a tutte le assistenze che hanno diritto invece, a cui hanno diritto i cittadini britannici. Questo va chiaramente a far risparmiare parecchi soldi alla Gran Bretagna, oltre a questo hanno ottenuto il taglio di sussidi governativi per i figli di migranti, perché non so se lo sapete, ma in Inghilterra, se io lavoro in Inghilterra, risiedo in Inghilterra e ho dei figli in Italia, questi hanno diritto a un assegno di sussidio governativo, perché io risiedo comunque in UK e sono riusciti a togliere anche questo. Per quanto riguarda invece la supervisione delle banche e delle istituzioni finanziarie, che ha più a che fare con il comparto economico, hanno avuto una garanzia di maggiore indipendenza delle società finanziarie con sede in Gran Bretagna dai regolatori europei. E questo è un qualcosa che entrerà ad avere validità nel momento in cui dovessero il 23 giugno decidere di rimanere all'interno dell'Unione Europea. Se si rimane all'interno dell'Unione Europea, questi accordi inizieranno ad avere validità. Dopo che si è raggiunto questo accordo preventivo con l'Unione Europea, Cameron, che è stato quello che ha in qualche modo proposto il referendum, ha deciso di sostenere l'ipotesi di restare all'interno dell'Unione Europea, perché secondo lui, non la pensano così tutti i membri del suo governo, il governo è diviso su questo, ma secondo lui, con gli accordi che si sono riusciti ad ottenere da parte dell'Unione Europea, rimanere all'interno dell'Unione stessa è meglio rispetto ad uscirne. Cosa conta per i cittadini? Molto velocemente, economia, lavoro e commercio al primo posto. La maggior parte, secondo i sondaggi che sono stati fatti, non sono idee nostre, ma sono idee riportate in base ai sondaggi che abbiamo avuto. Il 70% delle preoccupazioni riguardano gli effetti che si potrebbero avere sull'economia britannica, soprattutto per chi ha più di 45 anni e qui sotto abbiamo messo un grafico che mostra l'età e la percentuale, la probabilità di voto. Se voi vedete, da 45 anni in su, i cittadini che hanno dichiarato che sicuramente andranno a votare sono circa, mediamente, l'80%. Quindi se è vero che chi ha più di 45 anni va a votare dichiarando l'80% di probabilità di voto, vuol dire che 80 persone su 100 che hanno 45 anni vanno a votare sicuramente, absolutely certain to vote. Se è vero questo ed è vero che andranno a votare, è possibile che la Brexit in qualche modo non vada a realizzarsi. Vedremo però da queste statistiche se la maggior parte delle persone che hanno più di 45 anni e che quindi andranno quasi sicuramente a votare è molto preoccupato per gli effetti che si potrebbero avere sull'economia, vediamo cosa succede, ma stando alla statistica dovrebbe deporre contro la Brexit, quindi per rimanere all'interno dell'Unione Europea, ma vedremo tra poco cosa ci dicono i sondaggi. Il secondo punto di preoccupazione riguarda l'immigrazione, se i cittadini fossero concentrati solo su questo tema sarebbe plausibile una vittoria della Brexit perché effettivamente il sistema di welfare inglese è molto sviluppato e tanti residenti e tanti cittadini hanno dichiarato di voler sapere quanta gente entra nel proprio paese, che cosa fanno eccetera eccetera. Però non è la preoccupazione maggiore, la preoccupazione prioritaria è quella che vede appunto l'economia, il lavoro e il commercio messi a rischio grazie a questa potenziale decisione. Dopodiché ci sono questioni relative a sovranità ma sono di minore importanza, come vedete economia, lavoro, commercio, immigrazione e sovranità sono tre macro categorie che abbiamo assegnato a quello che conta per i cittadini che vanno in qualche modo a rispecchiare i negoziati che Cameron è andato a fare. Per quanto riguarda l'economia soprattutto si è riuscito ad ottenere una garanzia di maggiore indipendenza delle società finanziarie, come detto dai regolatori europei, per quanto riguarda invece il secondo punto l'immigrazione abbiamo parlato di tagli di sussidi e di freni di emergenza per l'accesso al welfare, per quanto riguarda la sovranità è di minore importanza per la decisione finale circa il tema Brexit o meno, ma noi conosciamo gli inglesi, per ridere dico che gli inglesi guidano a sinistra, giusto per farvi capire come sono fatti a livello di cultura personale e a livello di cultura nazionale, per cui è un tema sicuramente molto importante sul quale comunque sono già riusciti a spuntare parecchi vantaggi, un tema che è chiaramente meno importante dal punto di vista di impatti rispetto all'economia, però conoscendo gli inglesi non possiamo in qualche modo evitare di ragionare anche su questo, potrebbero esserci degli sbalzi nazionalistici che vanno a decidere anche il referendum. Dico così perché dal punto di vista di sondaggi abbiamo una forte confusione, questi qui sono tutte case sondaggistiche che hanno effettuato i propri sondaggi nelle date che vedete scritte, gli ultimi sondaggi della TNS 6 giugno vedono un leave, che vuol dire lasciare l'Unione Europea contro un remain, che vuol dire rimanere all'interno dell'Unione Europea rispettivamente rosso e blu tendenzialmente sullo stesso livello, qui non si vede puntualmente dove siamo, ma siamo sotto il 50% per tutte e due, molto vicini. Quando prima invece a partire dall'inizio di quest'anno guardate gli spread come sono stati importanti, penso per esempio qui a febbraio l'uscita dall'Unione Europea era apprezzata intorno a un 30 e qualcosa per cento, mentre rimanere dentro era quasi al 55. Siamo arrivati anche a metà maggio dove avevamo uno stay, quindi un rimanere all'interno dell'Unione Europea sopra il 55% con un uscire poco sotto il 40, grosso spread. Vedete che piano piano sono andati a convergere. Se guardiamo gli ultimi sondaggi ufficiali che sono stati rilasciati, abbiamo YouGov che ci dice uno stay 43 e un live 42, abbiamo ECM che dice uno stay 43 e un live a 48 e abbiamo ORB che dice stay 52 e live 40. Capite bene che da un punto di vista per lo meno personale oggettivo e che può portarci a un'operatività sensata sui mercati, questi sondaggi lasciano il tempo che trovano. Fanno capire che sono molto vicini comunque, sono molto indecisi, vedete ci sono anche delle percentuali di indecisi che chiaramente sono dati da 100 meno la somma di questi due e vi dice quante persone non sanno ancora che cosa fare e questo è un qualcosa di indicativo, di pericoloso più che altro. Se guardiamo qui, sono gli ultimi sondaggi, tre ve li ho già riportati io, YouGov, ECM e ORB, se torniamo indietro a vedere vedete che tendenzialmente ci sono delle differenze importanti ma bene o male siamo arrivati a convergere sempre di più. Un indicatore del financial time che va ad aggregare tutto, queste qua sono calcoli al 6 di giugno quindi a ieri, lo vedete scritto qua, June the 6th, 45% per rimanere e 43% per andarsene. La differenza che è il grigio che vedete in mezzo non sa ancora che cosa fare. Come vi dicevo prima se voi fate 100 meno 45 meno 43 vi rimane un 12% che è una percentuale comunque alta di persone che sono indecise e che quindi possono andare a muovere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Qui c'è tutta la storia di come ci siamo mossi da settembre dell'anno scorso fino adesso, le divergenze che sono andate a realizzarsi piano piano si sono trasformate in convergenza, poi siamo tornati a divergere, poi a convergere nuovamente e adesso siamo qui. Quindi un esito non scontato, anzi un esito molto molto incerto che sta creando delle aspettative importanti sul mercato. Qui niente, sono delle quote di bookmaker, giusto per darvi un'idea, l'exit sta iniziando ad essere pagato di più, vuol dire che inizia a diventare tendenzialmente meno probabile rispetto a uno stay, ma se andiamo a vedere, se prendete Betfair o diversi bookmaker, di cui io mi fido di più rispetto ai sondaggi, abbiamo comunque più o meno una Brexit pagata tre volte tanto uno stay. Quindi questo sta a significare che tendenzialmente dal punto di vista di bookmaker abbiamo una situazione più sbilanciata per un rimanere all'interno dell'Unione Europea rispetto a uscirne. Possibili scenari, stay si rimane nell'Unione Europea, vedevo scritto qui, euforia di breve termine sulla sterlina, Bank of England che continua ad essere un follower della Federal Reserve, mercato che presto potrebbe tornare a divenire dollaro centrico. Che cosa vuol dire? Se si decide di rimanere all'interno dell'Unione Europea, dal punto di vista di novità sul piano economico e sul piano degli accordi che sono in piedi fino adesso non ci sarà nulla, entreranno in vigore gli accordi che abbiamo visto prima sul tema economia, sul tema immigrazione, sul tema sovranità, i tre punti che Cameron ha riuscito a spuntare, ma a parte questo non cambierà nulla. Bank of England che continua a rimanere un follower della Federal Reserve, lo capiremo meglio quando parleremo di scenari di Brexit, ma tendenzialmente significa che da un punto di vista di politiche monetarie la Bank of England non si vede scombussolata dalla decisione del popolo anglosassone, la Bank of England ricordiamo che non vuole una Brexit, sta consigliando di votare contro la Brexit, per cui potrebbe continuare a comportarsi come sta facendo adesso, ossia lasciar muovere la Federal Reserve, non è questo il momento per parlarne, ma abbiamo avuto delle notizie importanti sul piano rialzo tassi in America nel corso delle scorse settimane e con la pubblicazione dei non farm payrolls di venerdì scorso, le aspettative per un rialzo di tassi già a giugno sono state un po' congelate, quindi potrebbero muoversi più in là nel tempo, essere un follower della Federal Reserve significa far muovere prima lei dal punto di vista di ciclo di rialzo di tassi per poi mettersi in coda e iniziare il proprio rialzo, quindi continuare una politica monetaria che attualmente se le cose rimangono come sono è attendista, ossia stiamo aspettando, lasciamo i tassi a 0,50%, lasciamo in piedi il quantità di vising da 375 miliardi di sterline, vediamo come vanno le cose, nel momento in cui l'economia va a migliorare di più rispetto a quanto è migliorata fino adesso, perché se voi andate a vedervi i dati sull'economia britannica sono andati a migliorare, a parte l'inflazione ma lì siamo su discorsi particolari, siamo in disinflazione barra deflazione praticamente dappertutto, però per il resto abbiamo avuto dei piccoli miglioramenti dal punto di vista di PIL, di tasse di disoccupazione eccetera eccetera, niente di importantissimo però niente di preoccupantissimo, quindi se rimaniamo così la Fed potrebbe decidere prima cosa fare e poi la Bank of England potrebbe muoversi di conseguenza. Mercato che potrebbe presto tornare a diventare dollaro centrico, che cosa vuol dire? Che di fronte a una decisione di questo tipo è possibile che la sterlina, lo vedremo dopo passando ai grafici perché voglio andare sui grafici a vedere in concreto anche come si stanno muovendo i mercati, oltre a questi ragionamenti che servono ma operativamente no, la sterlina ha sofferto fino adesso, se dovessero dire bene rimaniamo all'interno dell'Unione Europea, è possibile, probabile che ci siano delle strappi rialzisti di breve termine sulla sterlina, una sterlina che una volta che dovesse aver raggiunto i suoi livelli di equilibrio potrebbe in qualche modo passare in secondo piano, il mercato potrebbe tornare a riconcentrarsi sul dollaro americano e sui suoi tassi di interesse, per poi una volta che la Bank of England si va a muovere, tornare a ragionare sulla sterlina e quindi andare per esempio a comprare sterline se i tassi prospettici sono più alti rispetto a quelli che il mercato sta quotando attualmente, sono situazioni prospettiche ma c'è da capire che se la Brexit fosse, la chiamo Brexit, se mi scappa Brexit sappiate che vuol dire il referendum su questo tema, quindi se il referendum su questo tema fosse stato due settimane fa quando i sondaggi erano comunque confusi ma prevaleva un rimanere all'interno dell'Unione Europea, di fronte a una decisione di questo tipo il mercato come potrebbe reagire, se le aspettative sono che la Gran Bretagna comunque rimane dietro, la sterlina ha perso valore nel corso del tempo perché comunque hanno indetto un referendum, questo significa dare comunque una possibilità seppur più bassa di uscire dall'Unione Europea, se le aspettative sono queste e vince un rimanere all'interno dell'Unione Europea, la sterlina può ripartire sì ma non mi aspetto che riparta tantissimo, è scesa nel tempo ma piano piano le aspettative di mercato si sono mosse per un rimanere all'interno dell'Europa, la sterlina è possibile che fosse stata comprata, che venisse comprata ogni volta che circolava un buon exit poll, quindi di fronte a una decisione per rimanere all'interno dell'Unione Europea si va chiaramente a comprare sterline ma gli effetti potrebbero essere di breve, se questo referendum dovesse essere votato domani per esempio con le aspettative che ci sono adesso e dovesse vincere un rimanere all'interno dell'Unione Europea, il rimbalzo della sterlina, l'euforia di breve termine sulla sterlina sarebbe più forte rispetto a tre anni fa perché adesso c'è più incertezza su quello che può succedere, ma non c'è una grossa sorpresa, vediamo il 21 come arriviamo con i sondaggi perché lì si deciderà effettivamente, si andrà a pesare effettivamente qual è l'aspettativa del mercato e come la sterlina si sta muovendo, adesso sono ragionamenti generali, quando saremo lì capiremo meglio quali sono queste aspettative e potremo pesare, questo è il motivo per cui vi chiedo se volete di collegarvi anche il 21 alle 18, potremo andare a pesare anche le classi di volatilità che la sterlina potrebbe avere. Scenario di Brexit numero 1, se vince invece la Brexit Cameron potrebbe richiedere l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea secondo l'articolo 50 del trattato, attenzione che non è automatico l'uscita, se il popolo si pronuncia su questo tema Cameron andrà dall'Unione Europea e dirà ragazzi l'articolo 50 del trattato dice che si può uscire in maniera unilaterale dall'Unione Europea, noi vogliamo uscire, il popolo ha deciso così, iniziamo ad uscire. Ci sarebbero delle distribuzioni di reddito all'interno dell'Unione United Kingdom perché non si daranno più soldi all'Europa e ci potrebbero essere delle ripercussioni importanti sia di carattere economico sociale, politico e su flussi migratori, li vedremo tra poco perché è l'unico scenario che abbiamo analizzato in breve, non voglio farvi venire mal di testa con lezioni di macroeconomia grafici strani eccetera eccetera stile Bloomberg perché davvero non ci servono, se volete approfondire l'argomento lo possiamo fare sul daily facts e sul nostro forum, ma qui volevo dare un'infarinatura generale in modo tale da poter far capire a tutti, anche a chi non si occupa di economia a che punto siamo. In caso di Brexit, di scenario che vede comunque un Brexit voluta, Cameron potrebbe invece andare dall'Unione Europea e dire benissimo ragazzi abbiamo trovato già degli accordi prima del referendum. Adesso abbiamo fatto il referendum, i miei ragazzi, il mio popolo hanno detto, ha deciso che vuole uscire dall'Unione Europea, noi non vogliamo uscire, rinegoziamo qualcosa, cerchiamo di avere delle rinegoziazioni ulteriori che riguardano la nostra partecipazione all'Unione Europea. Uno scenario che a nostro parere è molto più difficile da realizzare, potrebbero andare infatti a chiedere di ottenere uno status come la Norvegia o la Svizzera che non appartengono all'Unione Europea, dove la Norvegia, vedete scritto lì E, E, A, appartiene all'European Economic Area e dove invece la Svizzera mette in piedi degli accordi bilaterali con gli altri stati, per esempio ha liberalizzato il commercio con la Cina mantenendo, dico una scemata, i dazi sulle esportazioni dagli orologi svizzeri in Cina. Ogni paese può fare il proprio accordo di libero scambio con altri paesi. Questo è molto più difficile perché l'Unione Europea ha già detto a Cameron, guarda che abbiamo raggiunto degli accordi preventivi, non pensare di fare un referendum per poi tornare qui e fare la voce grossa e chiederci altre modifiche, quindi questo è molto meno probabile. Lo scenario più probabile in caso di vittoria di Brexit rimane l'uno e ragionando su questo potremmo avere dei possibili shock. A livello di fiducia, investimenti domestici in diminuzione, banalmente aumenta il risparmio delle famiglie. Io ho paura di quello che può succedere all'economia italiana, ho dei risparmi, invece di andare a spendere e ad incrementare la domanda dei consumi, tengo questi risparmi da parte in attesa che si stabilizzi la situazione e in attesa che io possa decidere avere un buon grado di fiducia per tornare a spendere e a consumare. Tutte le stime che vedete qua prendetele con le pinze perché abbiamo studiato mille modelli economici e vengono fuori dagli outcome totalmente diversi, quindi tutte le stime che sono state fatte e che leggete sui diversi giornali, se li leggete o sulle diverse analisi di banche d'affari eccetera, sono stime che hanno senso ma lasciano il tempo che trovano da un punto di vista numerico perché non si sa a che cosa si può andare incontro né per la Gran Bretagna né per l'Unione Europea perché c'è anche qualcuno che chiaramente ragiona sull'Unione Europea e non solo sulla Brexit, per esempio cosa può guadagnare l'Unione Europea a mantenere una Gran Bretagna al proprio interno? Il guadagno più grosso che può avere l'Unione Europea è quello di non creare un precedente e di poter continuare ad imporre le proprie politiche di controllo sugli altri stati. Sono molto diretto su questa risposta, è qualcosa che credo fermamente, credo che l'Europa si stia muovendo non è il momento di parlarne ma con diverse politiche di austerity per mantenere in piedi il sistema Euro che altrimenti salterebbe, l'Euro è un cambio fisso all'interno di un'Unione monetaria ed economica che non fa senso, adesso lo sappiamo tutti, ma quando lo dicevamo in tempi non sospetti nel 2003 ci davano dei pazzi, adesso che è venuto fuori tutto il discorso e che qualche giornale ha iniziato a scriverlo, tanti trader e tanti investitori ragionano su questo fatto, ma se ci pensate l'Euro è un cambio fisso, tra la Germania e l'Italia non c'è più Marco Lira ma c'è l'Euro, un Euro è un Euro qua, un Euro è un Euro là in Germania, adesso non posso parlare di questo ma tendenzialmente quello che guadagna l'Unione Europea a mantenere la UK al suo interno è questo qui, non creare un precedente molto 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 pericoloso. Invece per la Gran Bretagna si vanno a prospettare degli scenari particolarmente preoccupanti in caso di uscita dall'Unione Europea, come detto calo della domanda perché gli investimenti domestici sono in diminuzione, a livello di credito, shock sul credito, le banche UK verranno considerate come più rischiose, avranno maggiori costi di finanziamento, si stimano costi superiori intorno ai 100 basis point rispetto ai tassi bank of England, sa di fatto che per rivolgersi a una banca UK, siccome è considerata più rischiosa, verranno richiesti più soldi in caso di prestiti a queste banche e via dicendo, legge base della finanza, rischio rendimento, più è rischioso, più premi a rischio vengono richiesti e così facendo, essendo considerate più rischiose, esistono effettivamente dei costi maggiori a livello di finanziamento un po' in tutti i settori. Dal punto di vista di shock valutario potremmo avere dei flussi valutari sulla sterlina, io ho scritto sterilizzati per essere abbastanza diplomatico, però insomma diciamo che grossi flussi in entrata sulla sterlina potrebbero non essercene. Il mercato potrebbe scontare prima questa eventuale dinamica e quindi potremmo assistere a delle vendite importanti di sterlina nel brevissimo periodo. Si stima una svalutazione dal 10 al 25%, questa è la stima che fa un po' più senso, è un ventaglio molto ampio, sta di fatto che la direzionalità del pound potrebbe essere effettivamente a ribasso nel breve periodo, dopo di che si vedrà quello che succede, perché se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea per il trattato, l'articolo 50, si prevede un periodo di due anni all'interno del quale si andranno a rinegoziare tutti gli accordi di libero scambio che erano in vigore fino al 23 di giugno e lì quando si inizierà a capire come il mercato potrebbe reagire dal punto di vista di economia reale potrebbero tornare dei flussi in ingresso sulla sterlina, ma in un secondo momento. Per quanto riguarda invece l'economia, impatti negativi sul PIL si stimano, e queste sono stime non bruttissime, da 250 a 1250 euro in meno pro capite all'anno, in base a quello che succederà. Il settore finanziario è in difficoltà, il settore chimico che è un settore che lavora molto con l'Unione Europea in forte calo, così come l'automotive, il meccanico e l'ingegneria. Dal punto di vista di dinamiche e di catene, che cosa può succedere? Sono concetti abbastanza semplici, ma che volevo vedere insieme a voi. Se è vero che ci sarà uno shock della domanda, vi ricordate, a livello di fiducia, investimenti domestici in diminuzione significa calo della domanda. Se si ha uno shock della domanda, la crescita è probabile che vada a rallentare. La sterlina si deprezza, per quanto abbiamo visto, gli spread sul credito vanno ad aumentare immediatamente, costa di più andare a tendenzialmente finanziarsi in sterline e per tutto quello che concerne i tassi nel Regno Unito. Salgono i tassi reali, perché effettivamente dal punto di vista di costo reale io ho dei costi più alti e così facendo si crea una catena dove si va a far peggiorare ulteriormente la domanda e da qua ripartiamo. L'inflazione inizialmente potrebbe aumentare perché la Gran Bretagna ha una bilancia commerciale, soprattutto sul saldo delle partite correnti, in deficit, vuol dire che si importa di più rispetto a quanto si esporta. Si parla di beni e di servizi o di beni e servizi prestati all'interno della Gran Bretagna ma utilizzati da paesi esteri. Facciamola breve, ipotizziamo di ragionare solo su importazioni e disportazioni di beni o di servizi, se si importa di più rispetto a quanto si esporta, il saldo delle partite correnti è in deficit, è negativo. Quindi vuol dire che andando ad importare di più rispetto a quanto si esporta, si incassano meno soldi, ci si sta finanziando tra virgolette all'estero, il che non è un male in assoluto perché per esempio se io vado a finanziarmi all'estero e con quei finanziamenti vado ad effettuare degli investimenti che mi rendono dei tassi più alti rispetto a quelli a cui devo remunerare il prestito va bene, ma in linea generale hanno un saldo delle partite correnti in deficit e questo potrebbe portare a una svalutazione ulteriore della sterlina. Se infatti io vado a far verificare quanto visto, flussi di capitale in uscita, shock della domanda, crescita rallentata, sterlina che scende, con una sterlina che vale di meno andare a comprare all'estero mi costerà di più, quindi l'inflazione all'inizio potrebbe aumentare. Dopodiché c'è una dinamica potenziale di inflazione in discesa invece e di un'inflazione che si mantiene bassa a causa di domanda di mancanza sia interna che esterna. Quindi dopo picchi potenziali di inflazione dovuti al fatto che devono andare comunque ad approvvigionarsi all'estero e la sterlina, se è vero che si va a svalutare, vale di meno, quindi farà aumentare i costi all'importazione e con l'aumento dei costi all'importazione aumenteranno anche i costi di produzione e i prezzi di vendita finali. Dopo questo spike iniziale potrebbe succedere il contrario, visto che ci troviamo in una situazione di stagnazione con poca fiducia, la sterlina potrebbe tornare verso lo zero e spostarsi tendenzialmente anche in territorio negativo, dal punto di vista di inflazione adesso siamo sopra lo zero, siamo a 0,3% ma non dimentichiamoci che a settembre e ottobre del 2015 siamo stati in territorio negativo, allo meno 0,1% e la Bank of England ha visto un'inflazione dal 2012 adesso scendere da oltre il 4%, la Bank of England come leggete qua, che ha saputo trattare bene l'inflazione fino ad ora, non farà a caso il primo rialzo nell'inflazione e potrebbe addirittura arrivare a tagliare i tassi, che cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire che quando eravamo nel 2012 l'inflazione era oltre il 4%, la Gran Bretagna che cosa ha fatto? Ha detto noi facciamo il quantitative easy, perché dal punto di vista di crescita non stiamo andando bene, anche se abbiamo l'inflazione al 4%, vedrete che scenderà comunque, la discesa dell'inflazione sarà una discesa strutturale che non dipenderà in maniera assoluta dalla politica monetaria. Si è assantificato Carney, perché Carney è capace di fare il banchiere centrale, a differenza di quello che faceva Trichet quando io era classe e Trichet nel 2008 alzava i tassi di interesse perché il petrolio andava a 150, se ci arrivo io che non sono un genio che l'inflazione è importata, non vedo come non possa arrivarci un banchiere centrale con tutto il suo entourage, però potremmo iniziare a fare discorsi di dietrologia che non mi sembra il caso di fare. Però per la Bank of England cosa hanno detto? Una misura di quantitative easing, ossia di allentamento monetario, iniezione di liquidità all'interno del sistema economico dovrebbe, per i libri di economia, portare ad un aumento di inflazione, invece con un'inflazione oltre il 4% sono andati ad implementare il quantitative easing da 375 miliardi e l'inflazione è venuta giù fino allo zero. Quindi anche in caso di scenario di questo tipo la Bank of England è plausibile che si comporti bene. Il problema qual è? Che se arriviamo di fronte a una dinamica di questo genere, qui non è evidenziato ma è molto importante, queste tre paroline, taglia i tassi rispetto a essere un follower della Federal Reserve e quindi aspettare che la Federal Reserve continui con questo rialzo di tassi per poi accodarsi, potrebbe addirittura andare a muoversi al contrario, tagliare i tassi per sostenere l'economia. Di spazio ne ha, siamo allo 0,50 e quindi tendenzialmente potrebbe anche muoversi in questo modo. Dal 2018 in avanti comincia la normalizzazione, ma lì stiamo già parlando del sesso degli angeli perché sarebbe passato più di un anno da questa decisione e noi dobbiamo invece andare a gestire la situazione dal punto di vista operativo. Ora, questo qua era una slide vecchia del primo appuntamento dove mostravo come la sterlina su un sondaggio ORB che ha dato il 55% di stay, ha reagito a rialzo, questa qua forse era addirittura una notte, quindi in qualsiasi momento adesso possono uscire notizie. Attenzione, questa qua invece è l'apertura del mercato di domenica sera, apertura in gap ribassista sulla sterlina, i dollari sono morti contro tutto dopo il rilascio dei dati sulla disoccupazione americana, 38.000 posti di lavoro creati contro 160.000 posti attesi, dollaro che è stato venduto contro tutto, qui si parla di sterlina dollaro, quindi il dollaro è al denominatore, una sterlina dollaro che vede dei dollari venduti dovrebbe salire, qui invece abbiamo avuto euro dollaro salire, australia dollaro salire, dollaro yen scendere, quindi tutti i dollari a ribasso, mentre sulla sterlina la debolezza è stata più forte rispetto alla debolezza generalizzata del dollaro americano. Per poi questa mattina su altri sondaggi partire velocemente a rialzo, girano rumor di un fat finger, si chiama, ossia di dita grosse, dita pesanti che possono aver messo dentro degli ordini erroneamente con degli zero in più rispetto alle cifre che si volevano fare, a me non torna questo, comunque sta di fatto che il cable è diventato, passatemi il francesismo, un casino, si muove in maniera volatile e in maniera assolutamente poco tecnica, però questo potrebbe in qualche modo non preoccuparci più di tanto, lo lavoriamo nel multi day, andiamo a prendere magari subito i grafici, lo lavoriamo nel multi day perché quando ci dovessimo avvicinare a livelli importanti o qui sotto su 43 o qui sopra su 47 e 3 quarti, allora sì che possono avvenire delle rotture, prendete qualsiasi grafico giornaliero, andate a vedere le congestioni, quando le congestioni vengono rotte il mercato può partire, quindi se usciamo di qua o di qua c'è la possibilità di farlo, ma se andiamo su time frame piccoli vedete che diventa tutto problematico, dal punto di vista di gap, rinchiusure dei gap, spike rialzisti alle 6 di mattina, diventa tutto pericoloso, se lo guardiamo da un punto di vista di lungo periodo, questo qua è un grafico mensile, che cosa abbiamo avuto sulla sterlina? dopo i massimi che sono stati fatti nel 2007, la sterlina è scesa in maniera molto forte fino a toccare 1,35 nel 2009, siamo andati a ripartire piano piano, siamo arrivati a 1,72 nel 2014 e da qui il mercato è iniziato a scendere, perché? Perché quando siamo arrivati qui, Carney e la Bank of England hanno iniziato, perché sto guardando il cable innanzitutto, scusatemi, forse non è il caso di specificarlo, perché l'euro sterlina, che è un cambio che forse potrebbe interessarci più da vicino, è un cross, quindi si muove in base al movimento di euro dollaro e di sterlina dollaro e quando ci saranno i flussi di capitale saranno sul cable, su sterlina dollaro, in base al movimento del cable si andranno a vedere come si muovono tutti gli altri cross sterlina, quindi se io prendo il cable e lo incrocio con l'euro dollaro vedrò l'euro pound, se io prendo il cable e lo incrocio con dollaro franco vedrò la sterlina franco svizzero, se prendo il cable e lo incrocio con new zealand dollaro vedrò sterlina nuova zelanda, se prendo il cable e lo incrocio con l'australia dollaro vedrò sterlina australia, quindi questa è la sterlina che comanderà tutto, per quello sto guardando questi grafici. Quando siamo arrivati a 1,72, Carney, la Bank of England, che avevano creato delle aspettative per un rialzo di tassi prima della Federal Reserve, hanno iniziato a far capire al mercato che non avrebbero fatto nulla e qua la sterlina è venuta giù, quindi all'interno di un quadro di guerra valutaria, di cui abbiamo parlato tanto nel corso dei mesi scorsi, sono stati gli unici che sono stati in grado di svalutare la sterlina senza mai dirlo apertamente, quindi sono stati molto bravi. Rimbalzo ancora della sterlina, dall'estate dell'anno scorso, quando a settembre hanno iniziato circolare queste voci di Brexit, ossia di indizione di questo referendum, la sterlina è andata a scendere, se ci mettiamo su un grafico giornaliero, per chiudere un pochettino la visione, dall'anno scorso a settembre abbiamo avuto una discesa importante, una discesa che è dovuta a due fattori, il primo chiaramente una sterlina che ha iniziato a sentire anche questi temi, il secondo un dollaro americano, se prendiamo un dollaro index e lo sovrapponiamo al nostro grafico sulla sterlina, un dollaro americano che ha preso forza, ha preso forza lo vedete qui, da un punto di vista di direzionalità, ma siamo arrivati a un certo punto dove il dollaro americano è iniziato a scendere e la sterlina ha continuato a scendere, se il dollaro avesse iniziato a scendere la sterlina avrebbe dovuto muoversi in questo modo, ma qui la sterlina è stata pesante e continua ad esserlo, quindi la price action ci sta dicendo che exit poll o non exit poll ci troviamo di fronte a un mercato che ha una sterlina pesante, se guardiamo un euro dollaro, e l'euro sicuramente non è conciato meglio della sterlina, dal punto di vista di rimbalzi rispetto ai minimi che sono stati fatti sul finire del 2015, ci siamo riportati a rialzo e dopo aver toccato questa linea di trend, vedete come sia stata confermata, siamo ripartiti verso l'alto e adesso non escludiamo che possano esserci dei tentativi di raggiungimento ancora di area 1,15, 1,16. Sulla sterlina grafico giornaliero vedete che la ripartenza è stata più blanda e qui siamo ripartiti soltanto nella giornata di ieri dopo che il mercato ha vissuto questi nuovi exit poll, ma non è una ripartenza che può essere considerata, non dico strutturale, ma ordinata come l'euro, quindi è una sterlina che è abbastanza pesante, è vicino ai minimi e questo cosa significa? Ma dal punto di vista operativo lo vediamo il 21 e soprattutto il 22, per chi di voi, io vedo che siete collegati in tantissimi questa sera, non so se tutti lo sapete, ma noi sul Daily Effects, che è il nostro sito di ricerca, andiamo a fare due webinar al giorno, uno alle 8 e uno alle 15.15 in apertura del mercato europeo al mattino e in apertura dei mercati americani al pomeriggio, quindi anche il 22 ed il 23 noi saremo in diretta tutto il giorno per studiare la sterlina. E vi stavo dicendo che una sterlina così bassa, può vedere due scenari di reazione, di fronte a una Brexit, rottura di tutti i supporti che ci saranno e probabilmente anche di area 38, verso la visione e la visita di punti di minimo assoluti che sono stati toccati qui sull'1.35 nel 2009 dopo la forte discesa da oltre due sterline per un dollaro americano. Quindi qua ci arriviamo probabilmente e non è da escludere che andiamo anche sotto. Se invece dovranno esserci dei risultati per rimanere all'interno dell'Unione Europea, una sterlina vicina ai supporti potrebbe essere buona da comprare con delle reazioni importanti a rialzo. Di breve periodo se arriveremo ai due giorni prima con un sondaggio che dà per avvantaggiato uno stay rispetto che un exit. Quindi è tutto un po' ancora aperto, è troppo presto per prendere decisioni operative? Sì, uno può scommettere, dice io scommetto sul fatto che si rimanga dentro piuttosto che si rimanga fuori e comprovendo rispettivamente sterline su questi livelli. È un'operatività che a noi sa troppo di scommessa, noi facciamo investimenti e facciamo trading, per cui lascia il tempo che trovo un ragionamento di questo tipo. La cosa che volevo portare anche alla vostra attenzione sono tutti questi movimenti potenzialmente molto veloci che possono partire, verranno cambiati i margini anche sulla sterlina, quindi verranno aumentati i margini e bisognerà stare tendenzialmente attenti a qualsiasi sputo, a qualsiasi tipo di movimento. Sta di fatto che il tema è molto sentito soprattutto dalle diverse banche d'affari, la congestione che il cable adesso sta vivendo è buona, è una buona congestione tecnica che può portare in linea teorica ad accelerazioni pari all'altezza di questa congestione o a rialzo o a ribasso nel momento in cui il mercato dovesse rompere e anche tecnicamente vedete che sui ribassi facciamo senso perché andiamo a prendere questi punti sul 38 e mezzo, sui rialzi facciamo senso perché andiamo a prendere questi massimi. I margini verranno aumentati in maniera permanente? No, probabilmente no, ma per quanto riguarda tutto il discorso Brexit sì, quando la sterlina sarà volatile sicuramente saranno più alti, poi se mi parli di marginatura generale quella è un qualcosa che piano piano col tempo sì potrebbe essere aumentata perché in America sono a leva 50 già da anni quindi è possibile che andremo verso leve più basse ma fino adesso le autorità europee non hanno detto nulla a riguardo per cui possiamo lavorare ancora con leve alte poi lo sapete come noi la pensiamo sul fatto della leva. Domanda che forse esula dall'argomento perché durante la crisi USA, The Subprime, Lehman Brothers eccetera quindi 2007-2008 il cable è crollato? Non doveva essere il contrario? Bellissima domanda questa qua, qui abbiamo avuto un cable che Enrico cosa mi sta dicendo? Perché quando c'è stata la crisi qua indietro? della Lehman Brothers il cable è venuto giù e non è andato a rafforzarsi, se tu vai a prendere un euro dollaro per esempio e lo andiamo a sovrapporre e poi andiamo a prendere un dollaro index e andiamo a sovrapporre anche lui eccoci qua tiriamo via queste linee la domanda è perché quando c'è stata la crisi della Lehman Brothers eccetera non abbiamo avuto un cable che saliva perché il dollaro doveva andare a perdere? Il dollaro in realtà come vedi si è andato a rafforzare e l'overshooting è stato proprio della sterlina rispetto agli altri, l'euro se tu vedi è sceso così siamo venuti giù da 1.60 praticamente a 1.26, 25 il cable da oltre 2 è venuto giù in maniera forte e siamo tornati sull'1.35 un forte ridimensionamento di sterlina proprio perché il mercato era andato a scontare una sterlina che ormai andava a rompere oltre l'area di 2, si sale con le scale e si scende con l'ascensore le discese sull'euro sono state più controllate così come sulle altre major mentre la sterlina ha avuto delle vendite che sono andate a ridimensionare un valore che era dal punto di vista sia tecnico che macroeconomico eccessivo non dimentichiamoci inoltre che dal punto di vista di tassi di interesse se andate a vedere la sterlina i tassi che andava a quotare nel 2007 erano tassi che erano oltre il 4% erano oltre il 5% anche con un dollaro che se voi andate a vedere nel 2006-2007 che aveva i tassi di interesse tendenzialmente su quei livelli avevamo i tassi che erano anche lì oltre il 5% prima di arrivare al post-crisi ad azzerarli il 2008 è stato un momento di aggiustamento e poi dal 2009 in avanti siamo andati a ripartire con dei lievi acquisti di sterlina ma come vedi da lì per molto tempo non siamo andati più a scostarci e i punti di massimo che sono stati toccati su questa ripartenza questa è stata la discesa ripartenza sono andati a prendere punti precedenti e sull'ulteriore ripartenza siamo arrivati qui tentativo di rottura disattesa delle aspettative per un rialzo di tassi e discesa nuova per la sterlina che è andata a portarsi all'interno di un nuovo range di equilibrio un qualcosa che prima invece non c'era perché il mercato si stava muovendo in maniera totalmente direzionale e non laterale direzionalità di lungo periodo allora per le registrazioni si lo potete rivedere vi dovrebbero mandare un'email a tutti i partecipanti con la registrazione se non vi arriva mandatemela una però aspettate almeno un giorno su questo indirizzo ve lo scrivo qui mpaganini-fxcm.it per i sondaggi Gianluca mi dice è impossibile sapere quando escono ci sono delle date prestabilite no il problema è quello lì il problema è quello lì per questo che io dico stiamo attenti se no noi avremmo fatto non ti dico di notte perché di notte dormiamo se no di giorno facciamo i danni avremmo fatto dei trade news sulle notizie e invece non possono uscire da un momento all'altro tu pensa allora io non mi ricordo quando abbiamo fatto il primo webinar ma abbiamo fatto questi ragionamenti nella notte stessa quindi è come se fosse successo alle due di questa notte sono usciti dei sondaggi e la sterlina si è mossa in maniera forte o forse alle 6 del mattino non mi ricordo comunque nella notte o di notte o al mattino presso sono usciti i sondaggi giusto per darti l'idea quindi non possiamo neanche andare a seguirli se no ci metteremo a mercato e possiamo sfruttare degli aumenti di volatilità adesso però guarda qua io non so che metodi utilizzate voi per andare ad operare sul mercato io utilizzo il mio metodo che si chiama il metodo dei 5 punti qua è peggio che andare di notte ci sono troppi spike troppi movimenti bidirezionali fino a quando non usciamo da questi canali noi la sterlina non la andiamo a tradare sull'intraday ma questo lo vedremo di giorno in giorno se ci sono delle situazioni sfruttabili come possono essercene quando la sterlina comunque va a muoversi in un certo modo noi abbiamo la possibilità di lavorarla qui metodo dei 5 punti per chi lo conosce è un'ottima congestione che potrebbe favorire delle vendite quando invece il mercato va a muoversi così che interagisce con le medie che non dà figure di continuazione chiare come questa qua bandiera su trend ben definiti seppur di breve periodo non facciamo nulla siamo molto onesti ok ho sforato un po' volevo stare con voi un po' di meno spero di non avervi fatto venire mal di testa per chi mi chiede dove si possono vedere i due webinar al giorno di cui si parlava prima ah ti faccio vedere bravo allora se tu vai a prendere una pagina internet allora vai qua scrivi te lo faccio vedere facciamo così basta che scrivi www.dailyfx.it questa qua è il nostro sito di ricerca trovi tutti i nostri articoli su base giornaliera e qui in alto c'è trading room trading room premium è quella per tutti coloro che hanno un conto standard con FXEM basta mettere il codice che ricevete e potete entrare trading room invece semplice questa qui è quella aperta a tutti basta iscriversi una volta sola mpagamini chiocerefxem.it ok Italia ottiene l'accesso ora qui si entra direttamente e in questa qua che è gratis per tutti che cosa facciamo qua sotto trovate i vari appuntamenti quindi vedete qui ogni mercoledì andiamo a fare i due webinar di cui ti parlavo quindi 8 del mattino e 15.15 e poi ogni mercoledì alle ore 13 c'è una lezione di FXEM Campus ossia un'università per chi sta cominciando ad operare sul mercato tutti gli altri giorni trading room premium se tu metti il codice adesso non lo metto se no lo vedete tutti non posso trovate i vari appuntamenti comunque se cliccate qua su trading room qui avete tutti gli appuntamenti che ci sono e cliccando su ognuno di questi vi rimanda alla alla stanza corretta quindi domani è un caso particolare perché sarà mercoledì basta andare sulla trading room gratuita da giovedì trading room premium ore 8 ore 15 e 15 e ogni qualvolta che c'è un dato macroeconomico importante lo trovate qui nel nostro programma l'ultimo che abbiamo seguito sono stati i non farm payrolls venerdì scorso dove abbiamo preso anche delle buone vendite di dollaro americano e dove siamo stati in grado di capire che lo standard and poor avrebbe in caso di tenuta di area 2085 non solo raggiunto i massimi precedenti ma anche compiuto dei massimi superiori cosa che per chi ha seguito l'apertura dei mercati americani prima è andata molto bene perché in correzione ci siamo fermati sulla nostra media mobile a 21 e adesso siamo già su nuovi massimi di periodo va bene mi fermo qui perché è davvero tardi non vorrei abusare della vostra pazienza vi ringrazio per la vostra attenzione per qualsiasi informazione su registrazioni eccetera scrivetemi mpaganini chiocelefxm.it domani vi rispondo grazie a tutti da Matteo Paganini è tutto e chiudo con il mio ormai consueto buon trading ciao a tutti